bella ragazzi qua è Spyro volevo subito ringraziarvi per i 29 iscritti veramente sono ben emozionato il telefono mi vibra comunque benvenuti nel quarto appuntamento della notte prima degli esami ringrazio nei commenti di Sara, Janice e Thomas che ringrazio, pregate per me io pregherò anche per te Sara te lo ricordo ragazzi sto guardando i giorni di show quasi comunque ragazzi 29 iscritti in 3 video, questo sarà il quarto veramente benissimo poi insieme non riuscite a raggiungere quasi in tutti i 3 video 4 video tutti i 15 like veramente spettacolare ve ne chiedo sempre 10-15 like per sostenere questa serie e andiamo avanti domani abbiamo francese e dobbiamo conquistarla la sufficienza ragazzi io non sono andato bene in francese l'ultima prova però ho preso la sufficienza quindi un po' di ottimismo dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti dobbiamo andare fino all'orale comunque ragazzi non riesco a caricarvi la sorpresa perché non riesco a tagliarlo bene e montare bene il video quindi ci sono qualche problema quindi magari riuscirò a rifarla comunque come sempre commentate condividete iscrivetevi e lasciate un bel pollice in su arriviamo a 10-15 like per fare un altro episodio e andare avanti con questa serie che durerà fino a quando passerò l'orale comunque è bene ragazzi ciao ragazzi